Inizia a puzzare di bruciato la questione legata allo stadio Vincenzo Presti di Gela, dichiarato inoggibile. Una vicenda che si ingarbuglia sempre più e che adesso è finita nell'occhio del ciclone. A volerci vedere chiaro su come lo stadio sia stato gestito e sulle autorizzazioni, adesso è la polizia del locale commissariato guidata dal dirigente Francesco Marino. Agenti nella sede di Viale Mediterraneo dell'Assessorato dello Sport e Turismo del Comune di Gela hanno sequestrato atti delibere, incariche e documenti vari che riguardano la questione stadio. Non è escluso che la vicenda possa allargarsi sempre più e coinvolgere altri impianti sportivi di Gela come per esempio il Palacossiga, anch'esso recentemente dichiarato inoggibile. Da quando il Vincenzo Presti ha chiuso i battenti, il Gela Calcio è costretto a disputare le partite di campionato nella vicina Licata. Ma ad usufruire del campo di gioco di Contrada Giardinelli anche altre società sportive gelesi. Così come anche il Palacossiga, spesso ospitato delle manifestazioni sportive con gli organizzatori che ora si ritrovano ad emigrare verso altri lidi perché la struttura donata nel 1991 dalla loro Presidente della Repubblica Francesco Cossiga è off-limits. In che maniera vengono gestite queste strutture? La Polizia vuole indagare e comprendere se ci sono eventuali responsabilità che potrebbero tirare in ballo amministratori vecchi e nuovi, dirigenti, assessori e tecnici. In merito allo Stadio Presti, giorni addietro, la Commissione Pubblici Spettacoli ha negato l'utilizzo della tribuna in condizioni precarie. Sono stati avviati dei lavori di ripristino e si attende una comunicazione in tal senso proprio sull'agibilità. Comunicazione che non è arrivata in tempo la scorsa settimana e che ha costretto il Gela a giocare il derby con la San Cataldese al Dino Liotta. Otto giorni fa invece è arrivata un'altra tegola con la chiusura del Palacossiga. Decisione assunta dall'amministrazione comunale perché a quasi dieci anni dall'inaugurazione non è stato mai effettuato il collaudo del sistema anti-incendio. Se ne accorta la Commissione Provinciale ai pubblici spettacoli nel corso di una visita ispettiva al termine della quale è stata negata l'agibilità della struttura. Al sindaco Domenico Mersinese non è rimasto altro che comunicare la chiusura del palazzetto con l'impegno dell'avvio immediato dei lavori di adeguamento.